Nel 2025, da aprile a ottobre, l'Italia avrà l'occasione di trovarsi su un palcoscenico globale, con un padiglione splendido, che avrà un suo spazio anche dedicato alle regioni. E quale regione più della Puglia, che in un certo senso rappresenta quell'Italia che da una parte è attrattiva, è una destinazione turistica, c'è tutto il food, il fashion, eccetera, ma poi c'è anche tutta l'alta tecnologia, l'innovazione, la ricerca. Questa è l'Italia che noi vogliamo raccontare e Expo 2025 è il momento giusto per farlo.